Ciao, sono Samuele e in questo video ti mostro come ho fatto oltre 3200 dollari di vendite in un solo giorno con il dropshipping. Avrei potuto fare molto molto meno, ma un'applicazione e un metodo di vendita che in questo video ti vado a mostrare mi hanno aiutato probabilmente a raddoppiare quelle che sono state le vendite, le mie vendite in quel giorno. Ci tengo a precisare prima di partire effettivamente con il video che questa applicazione l'ho mostrata, l'ho regalata diciamo così ormai oltre due settimane fa quando feci una live in diretta quindi sul gruppo Facebook Dropshipping Secret a cui ti invito a partecipare, un gruppo Facebook che trovi nella descrizione. Quindi nel momento in cui entri a far parte del gruppo ovviamente oltre al sottoporre tutte quelle che sono le tue domande avrai anche dei lati positivi, dei benefici come questo, quindi l'avere in anteprima dei contenuti che poi andrò a portare come vedi sul canale. Adesso lasciando stare quel lato iniziamo effettivamente. Questo è stato appunto un giorno, il mio giorno migliore fino ad oggi, in cui ho fatto oltre 3000 dollari di vendite in 24 ore esattamente. Quindi in un giorno solo ho fatto questo risultato. L'idea alla base è stata quella di promuovere un prodotto molto molto forte, non è quello che ti mostro, quelli che ti mostro in questo video però anche questi potresti sfruttarli, magari sono sicuramente prodotti molto 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 forti. Diciamo che si applicano bene per quello che è l'esempio che ti porto ma ripeto non è questo, non è stato il prodotto che ho utilizzato. L'app di punta per attuare questa strategia è questa qui, Bold Upsell. Quindi come vedi è un'applicazione di Shopify, un'applicazione che costa 9,99 al mese dopo aver applicato dopo 14 giorni di prova gratuita. Quindi anche qui se non hai intenzione di pagare subito un'app a pagamento, ce ne sono di diverse, questa è un'ottima soluzione per appunto testare un qualcosa prima di pagarlo. Quindi che cos'è Bold Upsell? In poche parole è un'applicazione che ti permette di aggiungere, cioè di offrire un Upsell o un Crossell o comunque un prodotto aggiuntivo a un'azione fatta da un cliente che può essere un Add to Cart, un Checkout e così via. Quindi come funziona? Una volta che installi l'applicazione, la parte molto molto forte che mi ha aiutato parecchio a quasi raddoppiare quello che sono, quelli che erano il valore medio di acquisto, di vendita a un cliente, appunto del carrello e della visualizzazione singola di quel cliente. Come vedi dall'esempio che ti porta, praticamente una volta che qualcuno sta guardando un prodotto, quindi decide di cliccare magari Add to Cart, Bold Upsell ti offre un pop-up in cui, qui ci scrivi tu quello che vuoi, offri un prodotto e decide di aggiungerlo al carrello, di aggiungere all'acquisto del prodotto che effettivamente il cliente vuole già acquistare, un altro prodotto in aggiunta. Questa applicazione è molto molto forte per diverse ragioni, la prima è che ovviamente offrendo un prodotto aggiuntivo all'azione già compiuta dal cliente, aumentiamo effettivamente quello che è il potere, il potere di vendita o comunque la predisposizione mentale del cliente ad acquistare. Cosa vuol dire? Nel momento in cui il cliente clicca Add to Cart, gli abbiamo già venduto un qualcosa, che è il prodotto principale, quindi il cliente è già predisposto mentalmente col fatto che dovrà pagare. Se aggiungiamo qui un altro prodotto, è più facile per il cliente dire di sì ad acquistare anche quest'offerta, essendo che ha già detto di sì a qualcosa prima. Quindi nel momento in cui appunto il cliente sta già acquistando qualcosa, offriamo magari qui, offriamo qualcosa in sconto, offriamo un prodotto comunque che si lega a quello che hanno già acquistato, e andiamo a vendere anche questo prodotto. L'altra ragione per cui è molto forte è che in questo modo, ripeto, aumentiamo il valore medio di vendita o comunque il valore medio di acquisto di un nostro cliente. Cioè se noi magari facciamo Facebook Ads, facciamo Instagram Ads, il parametro medio di un cliente per arrivare sul nostro store magari dobbiamo spendere 50 centesimi, dobbiamo spendere 1 euro, 2 euro, nel momento in cui utilizziamo, vendiamo solo un prodotto, magari spendiamo 1 euro e ne guadagniamo 10. Nel momento in cui utilizziamo strategie come questa, come Bold Upsell, applicazioni di questo genere, lo stesso cliente lo paghiamo sempre 1 euro per farlo arrivare al nostro store, ma effettivamente, essendo che con lo stesso costo acquista magari due prodotti, il nostro profitto non è più di 10, magari è di 20. Per riassumere, questo mi ha fatto fare davvero il salto di qualità quel giorno perché offrivo un prodotto che si legava molto molto bene a quello che già stavo promuovendo, ad uno sconto insomma abbastanza sensato, quindi magari non metti qualcosa che è scontato al 20%, metti qualcosa che è scontato al 50, al 60, al 75, in modo che quello che faranno è proprio un acquisto impulsivo che non si lasceranno scappare. Quel giorno probabilmente senza Bold Upsell non avrei fatto 3200 dollari, ne avrei fatti magari 1500, 1600, 2000, una cosa del genere. Sicuramente quindi se proprio non vuoi, è un'applicazione che magari non ti piace il concept, ti consiglio sicuramente di testarla perché i risultati concreti ci sono e noterai anche tu che comunque qualche ordine in più lo riesci ad ottenere sicuramente e sono comunque soldi che ti rientrano senza dover spendere tu per andare a trovare nuovi clienti. Quindi è un'app davvero davvero consigliatissima. E il parametro, l'idea che c'è alla base, adesso prendiamo l'esempio di Posture Corrector che tra parentesi, come ti ho detto all'inizio, è un prodotto che potresti benissimo sfruttare anche tu per fare questa strategia, solamente la cosa che ti potrebbe fermare è il fatto che ormai questi Posture Corrector, se non appunto questi qui davvero troppo semplici, hanno come vedi 37.000 ordini che sono decisamente troppi, piuttosto vai su qualcosa, come ti mostro negli altri video che trovi sul canale, con un numero di ordini minore. Però ecco, mettiamo caso che vogliamo vendere questo prodotto, quindi prendiamo questo Posture Corrector e lo mettiamo sul nostro store. Lo mettiamo sullo store, da che lo paghiamo 4,18, facciamo un totale adesso qui, questo prodotto lo possiamo prendere dagli Stati Uniti, ci costa un totale di, facciamo 8 dollari, e lo vendiamo a 30, che comunque è un ottimo margine, un ottimo parametro, e possiamo venderlo in questo senso. Collegando questo prodotto a Bold Upsell, che tra l'altro è molto facile da impostare, nel momento in cui qualcuno clicca Add to Cart sul nostro store per questo Posture Corrector, possiamo andare ad offrirli, quindi facciamo uscire un pop-up, un pop-up di questo cuscino gonfiabile per tenere il collo nella maniera giusta, quindi anche qui vedi i prodotti sono perfetti, perfetti da mettere assieme, quindi le la vendi in un certo senso, del tipo questo, questo prodotto che hai già acquistato, ti sistema le spalle e la postura generale del busto, quello che è, collegaci, quindi acquista insieme anche un cuscino per migliorare la postura del collo, della cervicale e così via. Subito Add to Cart, pop-up del cuscino per la cervicale, a magari, questo potrebbe essere, o qui possiamo decidere di offrire un costo minore di quello che è il prezzo che pagano per il prodotto principale, o un prezzo maggiore. Quello che ho fatto io è stato offrire un prodotto con un prezzo di poco maggiore, che però appunto si sposava molto molto bene con il prodotto principale, questo può essere un esempio ottimale, quindi esce il pop-up con questo prodotto, clicca Add to Cart, il prodotto oggi è scontato dell'80%, sparo a caso, e concludi l'acquisto. In questo modo, ti faccio l'esempio proprio pratico, questo costa 30, questo lo vendiamo, metti a 35, quindi lo stesso cliente che tu pagavi, mettiamo caso, 4 euro, 4 dollari, non te ne porta più 30 dollari di questo meno 4, quindi non ti porta più 26 dollari di profitto, ma ti porta 30 più 35, 75 meno 4, 71, quindi praticamente raddoppiato quello che è l'ordine medio, l'importo dell'ordine medio effettuato sul tuo store. Ti posso garantire che utilizzare una strategia di upsell o crosssell, utilizzando appunto questa applicazione, aumenterà notevolmente quelli che sono i tuoi numeri. Ti ripeto, semplicemente con l'uso di questa applicazione specifica, ho portato vendite che in un giorno, dal che dovevano essere 1.500-1.600 dollari, sono arrivate a oltre 3.200 dollari. Ti consiglio al 100% di testare questa applicazione, vedrai che i risultati non faticheranno ad arrivare, ti troverai anche tu con parecchi ordini aggiuntivi senza spendere un centesimo in più per il marketing, quindi per portare quello stesso cliente su un altro prodotto. Le lo offri semplicemente in aggiunta. Quindi io spero che questo video ti sia piaciuto, ti sia tornato logicamente utile. Se vuoi approfondire un po' le cose, oltre a tutti gli altri video che trovi sul canale, in descrizione il primo link ti porta al mio gruppo Facebook di Dropshipping, Dropshipping Secret, in cui ti invito davvero a partecipare per passare anche qui al next level come informazioni, aggiornamenti sui miei vari video, tutte le varie notizie che porterò. Quindi se ti è piaciuto questo video, ti invito a lasciarmi un mi piace, a iscriverti ovviamente al mio canale YouTube, a passare anche tra la mia pagina Instagram in descrizione, obiettivo un milione. Io ti ringrazio della visione e noi ci vediamo a un prossimo video. Grazie a tutti.